Ciao ragazzi, eccoci qui Ciao Ragazzi eccoci qui Fa passare il cazzo e me ne frega Siamo qui oggi ragazzi nell'ennesima challenge con l'Illuminati Crew Oggi ragazzi challenge a piedi scalzi incredibile a piedi scalzi con l'acqua ma soprattutto col sapone Ragazzi che cosa succederà noi dovremmo buttare la palla in porta l'essenza del caldo esattamente però avremo un problema una pista un po non dobbiamo romperci le ossa arriviamo a 42.000 mi piace per una nuova challenge per una nuova tibia rotta mi raccomando passate da tutti gli altri canali che trovate qua sotto in descrizione perché sono uscite delle altre challenge epiche e andiamo vai partiamo Ragazzi primo tiro è difficilissimo Ciao ragazzi sono Brazzo Crew e adesso farò goal senza rompermi una gamba Favo io con la tecnica Brazzo Crew della surfata e poi tiro ammazzo Mi faccio male Sono Mike Shaw c'è il cugino di Stormy e mi farò male stava sulle uova ragazze occhiali da sole perché altrimenti mi ingravido tutti uova vengono e la strata è un gibo non la strata è un gibo ora il vostro caro Dexter è il campione di scivolaccio in lutto e adesso Stormy segnerò col cazzo chi è? Ma che è? ma che è? Ma perchè hai su ulta? Ragazzi io non farò descrizione perchè adesso morirò Giampi! 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 Non è gol Ragazzi secondo tentativo Farò gol Gli hai rotto il culo ragazzi Ma che devi fare? Da lontano! Figa! 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 Ho fatto un gol una volta Posso gol Ma prima hai imparato! Corri! 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 Non ho paura ragazzi! Fatality Silvano! Silvano! Silvano regia per favore replay Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Questo è il giro da Autopedic Corri! Corri! Giovanni! E io corro! La docenza al loro! Corri! 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 Ciao a tutti sono Dexter Il mio Pokémon preferito è Squirtle Sextel! 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 Vai Corri! 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 Prima sono caduto mi sono scassato tutto ma adesso segnerò È il momento buono lo sento Corsa! Rincorsa! 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 Ora muoro Corri! 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 Non è scassato tutto! È morto ragazzi! Qualcuno ragazzi? Il dito! Si è fatto male! È morto! Fa vedere? Fa vedere? Ma ha calciato tipo per terra Che cazzo è morto? Oh! Un commento a caldo! Mi chiede dolore! Don't try this at home! Ragazzi attenzione ultimo tiro Ma che cazzo è? Ultimo tiro ragazzi E ora faremo dei tiri epici Cazzo! Ragazzi lo sto per fare eh! No lo sto per fare eh! No lo sto per fare eh! No lo sto per fare eh! Sto per fare ragazzi! Che cosa? Ma guarda occhia! No! Metà 짜wea! Attenzione! Oh! 1, 2, 3, ma che cazzo ne so, non stavo per dire, sono volata, mannaggia, questo è il tiro del Samurai, Brazzo, ma che ti è successo? 1, 2, 3, ma che cazzo fai? 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 2, 3, ma che cazzo fai? 1, 2, 3, ma che cazzo fai? 1, 2, 3, ma che cazzo fai? 2, 3, ma che cazzo fai?